Ci sono già le prime apparecchiature acquistate e ordinate dall'associazione Orazio Capurro Amore per la vita Onlus grazie alla raccolta fondi in favore dell'ospedale di Sciacca avviata nelle settimane scorse e che saranno donate al Giovanni Paolo II. In particolare sono stati acquistati quattro monitor multiparametrici con altrettante stampanti termiche e tre ventilatori polmonari. Si tratta di apparecchiature costosissime di ultima generazione dalle eccellenti caratteristiche tecniche che saranno donate all'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Sciacca per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Le caratteristiche tecniche di queste attrezzature sono state naturalmente condivise dall'associazione Capurro con i sanitari e il direttore della rianimazione che le hanno molto apprezzate ed approvate. Dell'acquisto e della volontà di donare tali apparecchiature all'ospedale è già stato informato il commissario Alberto Firenze. La raccolta fondi organizzata dall'associazione Orazio Capurro intanto sta andando benissimo. Tra donazioni su Facebook e quelle tramite bonifici sono già stati raccolti circa 26 mila euro. All'iniziativa di solidarietà hanno aderito tanti cittadini, imprenditori, associazioni e club service. Nei prossimi giorni, fa sapere il presidente Alessandro Capurro, dovrebbero giungere ulteriori donazioni oltre alle somme raccolte dalla dottoressa Jessica Ciaccio, la ricercatrice saccense che vive a Bologna e che ha avviato una personale raccolta fondi in favore dell'ospedale. È fondamentale che le persone continuino a donare perché solo così sarà possibile effettuare altri ordini di altre apparecchiature da donare all'ospedale di Sciacca. Aiutare il Giovanni Paolo II significa aiutare i pazienti ma anche i sanitari del nosocomio che stanno affrontando questa grave emergenza in prima linea, dimostrando amore, professionalità, abnegazione, competenze ed altruismo senza guardare l'orologio e mettendo a rischio la propria salute. L'invito è quello di continuare ad effettuare donazioni.